Partita vera al Pallozzi tra Ovidiana Sulmone e Pontevomano, nonostante non ci fossero ambizioni particolari, ma la voglia di concludere la stagione regolare nella migliore posizione possibile è stata tanta da parte delle due squadre guidate da due tecnici d'esperienza come Antonio Mecomonaco e Rinaldo Cifaldi. Il match riserva subito le emozioni, al quarto Torre scalda i guantoni di Fanti che con uno splendido colpo di Regni e con l'ausilio della traversa manda in angolo. A seguire ingenuità di D'Alessandro che atterra di Stefano in area di rigore e il direttore di gara non esita ad assegnare il penalty. Sul dischetto si presenta Ferri, ma Fanti si distende alla sua sinistra e neutralizza la minaccia. Su ribaltamento di fronte l'Ovidiana Sulmona si porta in vantaggio con un'azione firmata a Blanco. Facundo verticalizza per Martin che controlla, entra in area e manda il pallone all'angolino trafiggendo Modesti. Il ritmo poi cala e nel finale si rivede il Sulmona. Linares con uno splendido filtrante innesca Facundo Blanco ma tu per tu con Modesti si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore ospite. Allo scadere Facundo Blanco si mette in proprio e con un pregevole controllo orientato riesce ad arrivare alla conclusione ma il suo tiro non impensierisce Modesti. Ad inizio di presa prova a smuovere la situazione Cifaldi inserendoli Francesco al posto di Porrini. Dopo cinque minuti Blanco domina spalle alla porta e serve un cioccolatino per Giallonardo che da ottima posizione pecca di freddezza e manda al lato di un soffio. Al diciassettesimo proteste dei padroni di casa che recriminano un penalty dopo un contatto in aria ai danni di Martin Blanco il quale dopo essersi liberato del suo avversario con un sombrero non riesce a calciare a rete a causa del colpo subito. Gli ospiti cercano il pari e si registra un doppio tentativo, il primo respinto da Di Ciccio e l'altro da un intervento miracoloso di Fanti con i piedi. Nel recupero flipper a pochi metri da Fanti con il pallone che alla fine dopo il tiro di Faenza schizza alto sopra la traversa e viene accompagnato da un sospiro di sollievo del Pallozzi che applaude i propri beniamini. L'Ovidiana Sulmona termina il campionato al quinto posto, peccato per la squadra di Mecomonaco che i playoff non si disputeranno. Il Ponte Romano dopo una stagione all'avanguardia conclude alle spalle dei Peligni.